Non passa la mozione di sfiducia nei confronti di Renata Polverini, presentata dall'opposizione di centro-sinistra ad esclusione dei consiglieri Giuseppe Celli, della lista civica per i cittadini, e del rutelliano Mario Mei, di Alleanza per l'Italia. La maggioranza di centro-destra, compatta, ha votato no, decidendo di mettere la parola fine alle tante polemiche nate durante la campagna elettorale e sottolineando come invece di crisi si possa parlare per il centro-sinistra, visto che due consiglieri non hanno neppure firmato quella mozione. E il lancio di accuse e frecciatine tra il capogruppo del PD, Serino Montino, e Giuseppe Celli, lascia davvero pensare, anche se comunque Montino dichiara ufficialmente aperta la crisi del centro-destra. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni. Da cosa nasce questa mozione? Nasce dalla dichiarazione dello stato di crisi da parte della Polverini. Noi non pensavamo che si arrivasse a questo. Nel pieno del ballottaggio la dichiarazione della Polverini su carta intestata, quindi formale, è quella della sottolineatura dell'apertura di crisi formali. Non c'è più la maggioranza, ha detto. L'opposizione non poteva far finta di nulla. L'opposizione fa il proprio mestiere e hanno chiesto di portare questa discussione nella sede istituzionale preposta, cioè nella sede istituzionale che è quella del Consiglio regionale. Una crisi di questa natura, qui c'è una seconda anomalia, si doveva affrontare questa mattina sulla base di una relazione della Polverini, non ricompattando la maggioranza per il no ad andare a casa, perché se passa la mozione nostra naturalmente si scioglie il Consiglio regionale. È troppo facile compattare una maggioranza, anche di molti giovani, per dire no allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Cosa più difficile, e non ci sono riusciti, non ci stanno riuscendo, dire sì a un programma, dire sì a una maggioranza, dire sì a una relazione della Polverini. Questo dimostra una cosa chiara, evidente, che c'è una divisione, rimane una divisione profonda all'interno della maggioranza, una divisione profonda all'interno del centrodestra. Ecco perché noi insistiamo, perché oggi, oggi, formalmente, si apre la crisi. Non si chiude, ma si apre la crisi. Per quanto riguarda la crisi, c'è il Consigliere Celli che ha evidenziato, addirittura additando lei come responsabile, una crisi all'interno del centrosinistra. Su questo lei cosa ha da dire? Ma Celli non so se è centrosinistra, francamente. Io ho qualche dubbio, e ho qualche dubbio da parecchio tempo, il suo modo, il suo comportamento e così via. Spero che sia una posizione autentica. Non vorrei che sia, invece, un favore fatto. Perché qualche dubbio ce l'ho quando la prima dichiarazione che è uscita sul fatto che Celli non votasse, non votava e non sottoscriveva la relazione, la nostra mozione, è stata quella della Polverini. La Polverini sapeva per prima, ha saputo per prima, che Celli e May non avrebbero sottoscritto la mozione. Evidentemente c'è stato un certo scambio. Quindi lei rinnega l'accordo che avrebbe fatto lei con la Polverini per ottenere qualcosa in cambio, accusando Celli e May di fare lo stesso? No, ma io non accuso nessuno, io faccio solo una constatazione. Io con la Polverini non ho fatto nessun accordo. Io con la Polverini ho detto soltanto la mia su un passaggio che li ha spaccati. E rimango convinto che se noi avessimo fatto quella mossa a Sora e a Terracina e il candidato da Polverini fosse risultato eletto, oggi saremmo nella fase di scioglimento. Non stiamo così perché in qualche modo poi il massimalismo, come qualcuno diceva che era sempre una malattia infantile nella politica, il massimalismo purtroppo alla fine aiuta sempre gli avversari. E questo ha aiutato gli avversari. La mia era meramente una posizione tattica che li ha sfasciati che però l'avrebbero veramente rotti completamente e quindi è entrata in crisi se noi fossimo stati nelle condizioni di fare quell'operazione. Perché allora sì, le varie componenti della PDL, la guerra che c'è nella PDL, la guerra che c'è tra le province e la Presidente Polverini sarebbe stata una guerra senza fine e quindi fino ad arrivare all'estrema soluzione. Ora, io non dico per quanto riguarda me e quanto riguarda Celli che c'è un accordo. Io faccio solo una constatazione. La constatazione è che per prima lei sapeva, per prima l'ha dichiarato. La sua dichiarazione, il suo sapere, prima di tutti gli altri, è risultato molto strano. Ora, loro hanno fatto una scelta, vadano in maggioranza, non è un problema mio, non è un problema del centro-sinistra, è un problema individuale di questi due consiglieri regionali. Giuseppe Celli ha giustificato la sua astensione dalla mozione di sfiducia in questo modo. Non ho firmato la mozione di sfiducia perché considero la mozione di sfiducia un esercizio inutile. Serviva un confronto aperto e serio nell'aula consigliare. Si poteva fare, come io avevo suggerito, facendo una richiesta di consiglio straordinario e non legandola a una mozione di sfiducia che è un fatto estremamente grave, importante. La mozione di sfiducia si fa quando si deve sciogliere il consiglio, quando si verificano smottamenti nella maggioranza, quando si verificano spostamenti elettorali dal centro-destra al centro-sinistra e viceversa. In quel caso si chiede la mozione di sfiducia, ma tutto questo non è accaduto. Tutto questo si fa per una dichiarazione espressa dalla Presidente Polverini sui giornali. Crea una cosa sicuramente singolare anche questa, però che senso ha utilizzare lo strumento della mozione di sfiducia nei confronti di un momento in cui non era questo l'obiettivo. L'obiettivo, secondo me, dietro, nascosto e celato, era quello di fare due cose contemporaneamente. Un favore alla maggioranza e un altro ricompattare l'opposizione. Ricompattare l'opposizione perché il PD aveva dei problemi che ha dimostrato nel corso tra il primo turno e il secondo turno di ballottaggio perché il collega Montino ha detto votiamo i candidati della Polverini. Ora, i candidati da Polverini o sono frutto di una riflessione politica del Partito Democratico e allora lancia un messaggio alla opposizione tutta e insieme si riflette se c'è una prospettiva diversa o si guarda a una prospettiva diversa futura. Ma se questo non è soltanto il frutto di un esercizio del Partito Democratico a dire si voti quello e li facciamo litigare, non mi sembrano esercizi praticabili. Celli, mi scusi, lei come risponde a Montino che dice la prima persona a sapere che Celli e me non avevano votato la mozione di sfiducia è stata proprio Renata Polverini, come a voler insinuare che comunque ci sia un doubt des. Lei come risponde a questo? Non lo so, non esiste. Io non ho parlato con nessuno, io non ho avuto rapporti con nessuno, la mia serenità, la mia tranquillità è dovuta al fatto che io non ho parlato con nessuno e non ho trattato nulla con nessuno. Quindi per questa ragione io rispondo, rimando l'accusa al mittente e come ho detto già in aula, chi mal fa mal pensa. Possibile che lei passi alla maggioranza? Ma non esiste, ma questo non è. Nelle mie intenzioni io chiedo una verifica all'opposizione di fare dentro l'opposizione una piattaforma di condivisione su quattro emergenze, sulle quattro emergenze che ho detto in aula, dei rifiuti, del piano casa, l'occupazione, sanità e welfare. Su queste quattro questioni qui chiedo di confrontarsi perché io penso che su queste quattro emergenze noi dovremmo contrapporci o proporre alla maggioranza una strategia comune per risolvere questi mali che non si risolveranno e non li risolverà la maggioranza da sola, né la maggioranza da sola né l'opposizione da sola. Non l'ha risolto il Storace, non l'ha risolto il Marrazzo, non li risolverà la Polverini. In ogni caso, quanto dichiarato dalla Presidente Polverini il 27 maggio dopo che i due consiglieri della sua lista, Andrea Bernardo e Giuseppe Melpignano, sono confluiti nel popolo della libertà, non si può dimenticare facilmente. C'è una parte del PDL, aveva dichiarato, che ha deciso di spostare l'equilibrio della maggioranza sperando, suppongo, di influenzare in questo modo le mie scelte e la mia indipendenza. Non è così che ci si confronti in una coalizione. Non è questo il mio progetto di vita e politico per i prossimi anni. Ritengo questo atteggiamento un atto di ostilità nei miei confronti e un gesto che mette fine alla coalizione che sino ad oggi ha governato la Regione Lazio. Avviare la compravendita dei consiglieri e la vigilia di un voto così importante è un caso di autolesionismo politico di rara efficacia e di totale mancanza di responsabilità che, se possibile, supera quello dello scorso anno quando non fu presentata la lista del partito rischiando di compromettere l'esito del voto. Non sono più disponibile a spendere la mia faccia per questi signori e a condividere certi metodi. Di fine della coalizione aveva quindi parlato proprio la stessa Polverini come sottolineato con forza dal capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, Luigi Nieri. Oggi in consiglio regionale, finalmente in consiglio regionale, la minoranza unita ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Renata Polverini. In realtà però non unita in quanto Mei e Celli si sono tirati indietro e questo ha creato non poche polemiche. Innanzitutto perché sfiduciare Renata Polverini? D'altronde io ho provato a spiegarlo anche alla maggioranza. Che cosa deve fare l'opposizione di fronte al fatto che la Presidente della Regione Lazio che è un po' il capo della maggioranza, dice che la maggioranza è finita. Cioè durante il ballottaggio è successo qualcosa che era ovviamente non assolutamente prevedibile. Cioè la Presidente e esponenti del PDL del Lazio si sono presi a male parole e comunque il tema era che questa maggioranza non esisteva più. È chiaro che a quel punto la cosa più lineare e più rispettosa delle istituzioni, corretta istituzionalmente, è quella appunto di discutere nell'aula della Regione Lazio, del Consiglio regionale e è paradossale come la maggioranza abbia reagito a questa mozione di sfiducia. Quasi sono risultati un po' stupiti del fatto che l'opposizione richiedesse la conferma di quello che è stato detto dalla Presidente Polverini. Tant'è che noi avremmo e abbiamo richiesto che questa seduta fosse aperta da una relazione della Presidente. Cioè che dicesse chiaramente se le notizie e quelle bordate che si erano date sui giornali in realtà erano solo, come è stato detto per esempio da alcuni colleghi della maggioranza, tanto rumore per nulla, cioè se in realtà erano solo delle dichiarazioni così fatte sulla spinta di un sfogo di rabbia. Io penso che questo non è, tant'è che c'è una conferma da tutto ciò. La maggioranza non presenta ordini del giorno, per cui in risposta l'unica cosa su cui sono riusciti a tenere è bocciare la mozione di sfiducia dell'opposizione. Rispetto alla vicenda dei due gruppi che non hanno aderito alla mozione di sfiducia, cioè sia May che Celli, ma io non lo so, devo dire che non ho capito la ragione, non la capisco, adesso loro hanno sentito l'intervento di Celli, a me non mi ha convinto, ma non è un problema, nel senso che ci siano delle differenze all'interno dell'opposizione va bene, nel senso che noi non dobbiamo governare la regione Lazio, il nostro ruolo è quello di fare opposizione. Mi auguro che questi colleghi, pur non condividendo la mozione di sfiducia, rimangano a fare l'opposizione alla giunta Polverini. Neri, se per caso cadesse questa maggioranza, se si sciogliesse il Consiglio regionale, l'opposizione sarebbe pronta, secondo lei, a governare la regione Lazio? Sì, non c'è dubbio, dobbiamo sempre non dimenticare che fino a un anno fa questa regione è stata governata dal centro-sinistra, per cui le condizioni, oltretutto sugli interventi importanti, l'opposizione sta facendo un'opposizione compatta, penso alla legge Tarza e al piano casa, per cui siamo quelli che sono un po' questi provvedimenti, che loro lamentano di non riuscirli ad approvare per colpa dell'opposizione, per cui noi abbiamo la colpa di fare l'opposizione, secondo la giunta Polverini, è un po' imbarazzante la richiesta della maggioranza, cioè vorrebbero governare a limite con i numeri dell'opposizione, questo non si può fare, i cittadini hanno votato a maggioranza per far governare il centro-destra in questa regione, credo che molti delle persone, delle cittadine, dei cittadini che hanno fatto quella scelta, già oggi si sono pentiti, come tanti altri in Italia, di aver votato il centro-destra, il governo Berlusconi, d'altronde la crisi di questa giunta nasce dai risultati scarsi che sono stati ottenuti nelle zone soprattutto dove all'epoca la Polverini, nel Lazio, ha preso tanti voti, per cui in realtà questa è la vera ragione, c'è una crisi verticale del centro-destra, il centro-sinistra è pronto già da domani mattina a riprendere il governo di questa regione. Molto rumore per nulla per il capogruppo del PDL, Franco Fiorito. Oggi l'opposizione, esclusi due consiglieri, hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Renata Polverini, visto le dichiarazioni della Polverini sulla crisi della maggioranza, il suo non avere una maggioranza, il PDL di Frosinone tra l'altro era abbastanza contrariato nei confronti della Presidente, qual è il suo punto di vista? Molto rumore per nulla, ho detto all'inizio dell'intervento, nel senso che ci è sembrato spropositato e soprattutto fuori luogo. Quello che tu hai citato, cioè che neanche tutta la minoranza abbia sottoscritto questo documento, secondo me visibilizza più spaccatura all'interno della minoranza che non nei confronti della maggioranza, che invece voterà compattamente contro questa mozione. Noi oggi l'abbiamo ritenuta quasi una perdita di tempo, perché i dibattiti fanno sempre bene, però forse i cittadini si aspettano di più dibattiti che riguardano le cose concrete, piuttosto che solamente delle polemiche politiche che non interessano oggi credo più a nessuno. Quindi per quello che ci riguarda oggi è un'occasione per dimostrare la compattezza della maggioranza e credo si rivelerà un boomerang nei confronti della minoranza, perché ne uscirà probabilmente male. Ecco, c'è qualcuno che parla di un eventuale rimpasto all'interno della maggioranza? Ci sarà cambio di assessorati? C'è qualche voce in proposito? Non credo, non è in programma e non è all'ordine del giorno. Invece i temi che abbiamo trattato sono come migliorare l'azione amministrativa, in particolare ci siamo dati nell'ultima riunione di maggioranza degli obiettivi che sono cercare di approvare entro l'estate alcune leggi che sono già sul tappeto nel corso delle commissioni, in particolare abbiamo individuato il piano casa, che è fondamentale, il piano rifiuti, c'è pronta la legge sull'audiovisivo e sullo spettacolo che porterà grandi nomi anche a registrare nel Lazio un notevole incremento anche dal punto di vista occupazionale, crediamo, e in particolare l'assestamento di bilancio che sarà un altro atto fondamentale che abbiamo intenzione di approvare entro la fine di questo mese probabilmente. Quindi se riuscissimo già a fare questo avremmo dato un segnale anche importante, forse molto più importante di quello che è uscito oggi. A puntare il dito contro la minoranza per un atteggiamento irresponsabile, il capogruppo della destra Francesco Storace che rinnova la sua fiducia a Renata Polverini pur non nascondendo che qualche problema ci sia. L'opposizione di centrosinistra, esclusi due consiglieri, hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti di Renata Polverini dopo le dichiarazioni della stessa presidente nel corso della campagna elettorale, nel corso del ballottaggio. Qual è il suo punto di vista? Desolato, perché vede, c'è stata indubbiamente tensione legata alla campagna elettorale, che però si presenti una mozione di sfiducia con un atto importante. Una mozione di sfiducia che viene approvata comporta lo scioglimento del Consiglio regionale, la convocazione dei comizi elettorali e di elezioni per 5 milioni di persone. Tutto questo per delle dichiarazioni. Posso capire per dei fatti. In cinque anni di governo regionale mio, ma nemmeno nei cinque anni di governo regionale di Marrazzo, nessuna delle due opposizioni ha mai presentato la sfiducia, perché deve accadere un fatto veramente grave. Qui invece non fanno, e nemmeno convinti loro, vogliono convincere noi, ma non si sono convinti manco tutti loro, vogliono far cadere la giunta per delle dichiarazioni. Io credo che sia un atto infantile. Lei che cosa pensa rispetto a questa maggioranza? Tiene o non tiene? Ha il dovere di tenere. Certo, ogni tanto ci possono essere delle tensioni, ma io credo che questo sia nella fisiologia del dibattito politico. Quasi adesso riusciremo a portare a compimento il piano casa dalla Commissione Buonasorte in aula, il piano rifiuti, la legge sul cinema, l'assestamento di bilancio. Se ci riusciamo anche l'abolizione del listino dalla legge elettorale per impedire che i nominati vengano anche in Regione, oltre che in Parlamento, noi faremo atti qualificanti e apprezzati da pubblico opinione. Scusi, lei non crede che ci serva un maggiore senso di responsabilità da parte dei consigli regionali? Spesso anche durante le commissioni non c'è la maggioranza, spesso il Consiglio regionale non viene convocato, una maggiore attenzione anche nel rispetto degli elettori, anzi soprattutto? Spesso non è vero, ogni tanto succede questo, non spesso. La regola è che ci sono. Ogni tanto c'è l'eccezione che il Paolo regionale non ci deve essere. Comunque, con 42 voti contrari, la mozione è stata rispedita al mittente Renata Polverini, si dice pronta per il nuovo cammino e per mettere un punto alla bagarre di questo periodo. Polverini si è però anche impegnata a recarsi più volte in consiglio regionale, così da far proseguire spediti i lavori dell'Aula, visto che, a quanto pare, la sua presenza incite i consiglieri a partecipare numerosi ai lavori. Non è forse questa un'ammissione della irresponsabilità dei suoi consiglieri? La maggioranza ha tenuto compattamente, cosa che invece non ha riuscito all'opposizione, che perde intanto due consiglieri che si sono astenuti. Quindi da oggi si riparte più forte di prima. Quindi le dichiarazioni che ha fatto durante il ballottaggio le ritirano in un certo senso? Tutti sanno che c'è stato un chiarimento nei giorni immediatamente successivi a quella polemica, che pur vivace rimane sempre una polemica, e quindi non c'era assolutamente più nessuna difficoltà. È stato tutto risolto. Ha chiesto al Consiglio di lavorare più assiduamente per rispettare i cittadini? Sì, io penso di sì. Siccome ho notato che la mia presenza in qualche modo è da stimolo, ho anche detto che cercherò di essere più presente, perché credo che la funzione legislativa del Consiglio è importante, non soltanto per quelle che sono le proposte di legge che manda la Giunta, ma anche per quella che può essere una legislazione diretta del Consiglio. Mi pare che su questo si deve assolutamente rilanciare l'azione comune. è una legislazione diretta del Consiglio. è una legislazione diretta del Consiglio. è una legislazione diretta del Consiglio. è una legislazione diretta del Consiglio.